Andiamo al segno della Vergine, per voi amici della Vergine questa è una giornata un po' noiosa forse, perché c'è questa luna che transita in un settore che ha a che fare con la routine, con la vita quotidiana, con le regole, con il lavoro che non potete delegare, ci sono degli impegni che vi impediranno anche di vivere come desiderate, come volete, perché sarete costretti anche a risolvere problemi in più, problemi che derivano da altre persone, dovrete ovviare anche agli errori fatti eventualmente dai colleghi di lavoro, però tutto questo poi vi darà dei risultati importanti, perché è chiaro che le persone che contano, le persone che rappresentano anche l'autorità o il potere si accorgeranno delle vostre doti, delle vostre qualità, ci potrebbe scappare anche un encomio in questa giornata, un complimento importante, un attestato di stima fondamentale. Per quanto riguarda l'amore, non è una giornata particolarmente vivace, ma le cose stanno per cambiare. Andiamo al segno della bilancia.